Una situazione grave occorre intensificare i controlli e migliorare il piano antincendio. Così il presidente della provincia di Benevento, Antonio Di Maria, commenta gli ultimi terribili giorni in cui le fiamme hanno distrutto centinaia di ettari di territorio nel Sannio. Particolarmente grave la situazione da Ferragosto con gli episodi in Valle Caudina, dalle fiamme che hanno distrutto gran parte della montagna che sovrasta Paolisi, lambendo addirittura le abitazioni, al timore di un coinvolgimento della zona della discarica Tre Ponti. Sì, quest'anno abbiamo avuto veramente tantissimi incendi, incendi anche di tantissima intensità che anche incendi che ci hanno preoccupato molto per la vicinanza dalle abitazioni o vicino alla città o ai vari paesi del nostro Sannio. Come provincia di Benevento ce la stiamo mettendo tutta, quindi voglio ringraziare gli operai forestali, i digi del fuoco, tutti coloro che stanno lavorando. C'è Palonia, Pollosa, Forchia, Montesarchio, sono molti i centri che hanno subito i danni dei roghi in questa terribile estate. E questo sicuramente ci deve far porre qualche domanda, perché o dobbiamo aumentare e intensificare i controlli, oppure va migliorato il piano anti-incendio. Questi fenomeni così sparsi, così anche di grande intensità, non pencono se non c'è la mano dell'uomo.